oi sono appena arrivato guarda ma ti devo dare una notizia bomba vai dimmi tutto no guarda non te la dico per telefono vieni via e te la fa vedere l'ancola più bella e dove stai? facciamo una cosa ti mando la posizione su whatsapp ok ci vediamo tra poco va a trappolino ciao buone ciao tesoro bella ma che è tutta sta segretezza sto mistero che buono manco non tu la capito ma è che? e sapere a torino ma veramente? te lo giuro vabbè è spettacolo ma quindi c'è stata a fare la schiacciata dedicata a torino è certo ma ti immagini di cia la schiacciata a torino con la stessiccina di bra che si va a sto no no non spoilerare niente vabbè va da romera fuma